Isola dei Famosi 2023, è ufficiale, ecco sono gli opinionisti ma c'è una gaffe. E' tutto pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che partirà il 17 aprile su Canale 5. Il programma sta ufficializzando i naufraghi che saranno protagonisti delle reality show e gli opinionisti che commenteranno le loro vicende. Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino, lei con i suoi abiti sgargianti e l'unico la sua. Moseca si legge sull'account Instagram ufficiale. Ed ecco che i nomi di chi affiancherà Ilari Blasi sono confermati, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Al posto di Savino. Per l'ex parlamentare è arrivata una conferma scontata vista la sua ottima performance dello scorso anno. Durante il quale è sempre stata puntuale e acuta nel leggere le dinamiche della trasmissione. Per Papi, invece, sarà la prima volta in questo ruolo, come si comporterà? Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare, la prima foto insieme fuori dalla clinica con papà Goffredo Cerza. Edoardo Tavassi e Nicolin Corvaia, appuntamento romantico, la destinazione è epica. Pioggia di commenti sull'account ufficiale dell'isola, dopo l'annuncio di Luxuria e Papi. La conferma di Vladimir ha messo d'accordo tutt, ma su Papi il pubblico si divide, c'è chi non vede l'ora di vederlo all'opera. Sicuro che con la sua simpatia sarà capace di innestarsi nei meccanismi delle reality e chi rimpiange l'assenza di Nicola Savino. Nell'annuncio degli opinionisti, si è verificata una piccola gaff sull'account social dell'isola dei famosi. Nel feed del profilo Instagram è apparsa la fotografia di Vladimir Luxuria e di Enrico Papi. Con la didascalia opinionisti ufficiali. Ma ecco che nelle stories c'è stata una svista e i due opinionisti sono stati presentati come concorrenti ufficiali. Questo ha generato un po' di confusione tra alcuni utenti che si sono domandati quale ruolo spettasse realmente a Papi e Luxuria. Chi ha in mano l'account delle reality ha subito riparato all'errore cancellando la story. Chi ha in mano l'account delle reality ha subito riparato all'errore cancellando la story.